Sindaco avviati i lavori di costruzione a Borgo Rancia, oggi è stato illustrato il cronoprogramma per i tanti nuovi appartamenti, sono 134 che nel giro di un anno, un anno e mezzo saranno consegnati ai terremotati in sostituzione delle SAI. Abbiamo previsto, e lo dobbiamo dire questo con molta chiarezza, di poterli consegnare nella fine di questa estate, quindi fine settembre. Non ci riusciremo per il semplice motivo perché non siamo stati accompagnati come succede spesso in questo paese, ma l'abbiamo affrontato l'argomento molto chiaramente nel Consiglio Comunale con il dottor Borrelli, capo della protezione civile nazionale, con l'assessore regionale Angelo Sciapichetti, responsabile della ricostruzione, per la regione Marche e con l'Erap, che era ospite, e con tutti i nostri consiglieri e assessori, con tutta la nostra macchina amministrativa, in occasione proprio del Consiglio Comunale. Purtroppo la burocrazia, c'è una macchina estremamente prolissa, burocratica, che ti irretisce, di cui non hai mai contezza, i tempi che ti vengono promessi generalmente non vengono rispettati, e quando arriva quel benedetto foglio ti accorgi che sono passati mesi. E a noi è successo questo, l'ultimo decreto governativo a firma della protezione civile nazionale, quindi l'ordinanza, che ci sblocca e ci dà tutte le normative paritetiche alle SAE, quindi alle costruzioni emergenziali, fatte da Chitto. Per aver riconosciuto queste procedure abbiamo dovuto attendere il 24 aprile del 2019. Questo naturalmente sposta in avanti tutto l'argomento, per questo ci assumiamo le nostre responsabilità, chiediamo scusa, ma attenzione, come ho già detto, nessuno è in mezzo alla strada, attenzione, chi aveva diritto alla E, quindi agli appartamenti sostitutivi, in questo caso delle SAE, grande scelta, perché valgono per sempre e non sono strutture a tempo, quindi spendiamo bene i soldi pubblici, può anche avvalersi del CAS, contributo di autonoma sistemazione, quindi può durare a stare in affitto, naturalmente in attesa, o nei container, come hanno scelto alcune famiglie, 37 mi pare. Quindi oggi è un giorno di rammarico per le tempistiche, ma è un giorno di festa per la puntualizzazione di tutto, perché le aree sono state comprate, e attenzione, sono state comprate sotto legida degli organismi preposti, quindi dell'ufficio delle entrate e del demanio dello Stato. E sono state comprate aree che avevano già mangiato il territorio, perché erano già state destinate all'edilizia, quindi all'edilizia residenziale. Quindi non abbiamo abbattuto neanche una pianta, non abbiamo vandalizzato per sempre la vallata del Castello dell'Arancia e tutta la nostra paesaggistica, la nostra bellezza, la città rimarrà intatta. Abbiamo acquisito le aree, adesso partiranno i cantieri, entro l'estate partiranno tutti i cantieri, e quindi nella primavera, a partire da ottobre di quest'anno, per delle piccole quantità di appartamenti, ma dalla primavera in avanti del 2020 fino ad ottobre 2020, ci sarà la consegna e tutto il resto. Quindi io sono sicuro che una volta che avrete visto anche, cari cittadini, la bellezza di queste opere, che sono addirittura meno costose a volte delle stesse SAE, pensate, ci darete ragione e direte sì, è vero, magari abbiamo dubitato, abbiamo equivocato, ma conti fatti. La scelta che è stata fatta è stata una scelta molto responsabile e lungimirante, anche se è costata dei sacrifici.